Chiunque nel corso degli anni sia interfacciato almeno una volta col mondo della moda o semplicemente dello streetwear, sono sicuro che abbia ben presente chi sia Virgil Ablo. Per tutti gli altri stiamo parlando di uno dei designer più influenti del mondo e soprattutto slegato dal tempo, riuscendo a superarsi e a riconfermarsi ogni singola volta e diventando uno dei visionari più amati di tutto quanto questo settore. Ma come ha fatto ad arrivare a questo punto? Come ha fatto a diventare uno dei designer più influenti del mondo della moda? E come è riuscito a collaborare con alcuni dei marchi più prestigiosi come Louis Vuitton oppure con Nike? Beh, sedetevi, prendetevi qualcosa da bere, qualcosa da mangiare, perché questa è la storia di Virgil Ablo. Nato in una città degli Stati Uniti nel 1980, nello stato dell'Illinois, da due genitori di origine ganese, Virgil cresce in un ambiente caotico ed ha stretto contatto con il mondo dello skate, la cultura ed il lifestyle di quella città. Quest'ultime non hanno che potuto lasciargli un marchio indelebile su quella che poi sarà la sua visione della moda. Dopo gli studi in ingegneria, il trampolino di lancio è nel 2002, quando riesce a farsi assumere come grafico e personal stylist da una delle persone che da lì a poco diventerà uno dei rapper più famosi del momento. Ovvero sto parlando di Kanye West, diventando così il suo brazzo destro e un suo amico molto stretto. Nel 2011 viene incaricato come artistic director per l'album Watch the Tron, in collaborazione tra Kanye e Jay-Z, che sarà sicuramente la svolta per entrambi. Uscito l'album da record, riescono a scalare le vette musicali, riuscirono ad imporre Kanye nel mercato della moda e da vari anni di distanza possiamo dire anche una delle figure più attive e rivoluzionarie presenti all'interno. Nonostante il grande successo, Virgil però non aveva nessuna intenzione di lasciar stare i suoi progetti da solista. Iniziò un'accattivante campagna di customizzazione che portò a quella che sarà la sua consacrazione totale, ovvero sto parlando di Pyrex Vision. L'idea dietro a questo progetto era il desiderio di non uniformarsi alla massa, ma bensì creare dei prodotti che fossero unici nel loro genere e differenziandosi dal mercato di allora. Questa idea però possiamo dire che rimase un suo cavallo di battaglia portandosi dietro per tutti gli anni a venire. In poche parole il suo progetto funzionò in questo modo. Acquistò diversi capi di Rolf Lauren e gli stampò sopra grafiche personalizzate e il numero 23 sul retro in omaggio a Michael Jordan. Con il passare del tempo riuscì a creare un vero e proprio mercato presentando le proprie collezioni e stampando le sue grafiche su Capi Champion. Dopo solamente un anno di attività però decise di interrompere questo progetto proprio perché la sua visione non era di creare un business ma semplicemente portare un esperimento sul mercato. Grazie a questo riuscì ad avere un'attenzione mediatica incredibile e le risorse giuste per realizzare il suo marchio principale è quello che tutti colleghiamo al suo volto, sto parlando di Off-White. Dopo l'uscita i riscontri non furono che essere straordinariamente positivi consentendo a quel designer di Chicago di operare sempre con più frequenza con altri marchi e rivoluzionando l'attuale mercato e ideando progetti sempre più innovativi partendo da Villon e Moncler per passare a Nike, Evian ed Ikea. Ed essendo uno dei pochi a riuscire a fondere perfettamente l'ideale di formale e informale in un'unione perfetta. Se ad oggi possiamo parlare di streetwear come qualcosa di super diffuso a livello mondiale sicuramente gran parte del merito va attribuita a lui e al suo brand. Passarono gli anni ma quello che hanno i sneakerhead ci è rimasto impresso è il 2017 quando insieme a Nike decisero di fare una collaborazione portando alla luce The Ten. La collezione che segnò con un grandissimo punto esclamativo la storia delle sneakers. Nello stesso anno arrivò anche da Louis Vuitton la carica per direttore creativo per tutta la linea da uomo. L'idea dietro alla collaborazione con Nike era quella di riproporre le 10 scarpe più significative che Nike nel corso degli anni è riuscita a far amare al grande pubblico. All'inizio il progetto era stato pensato come una collaborazione tra Nike, Virgil Abro e Hiroshi Fujiwara. Per chi non conoscesse quest'ultimo stiamo parlando del fondatore di Fragment Design. Entrambi avrebbero dovuto presentare 5 scarpe a testa purtroppo però le cose non andarono proprio così. E l'unico che portò a termine questo incarico fu Virgil creandole tutte 10. Così riallaborò in 10 mesi i 10 modelli icona che hanno segnato Nike dividendoli in due categorie di stile. Le Revealing e le Ghosting. Il primo gruppo ovvero Revealing raccoglieva una serie di modelli creati per essere accessibili come le Jordan, le Air Max 90, le Air Presto, le Vapor Max e le Blazer Meat. Il secondo gruppo invece era stato ideato con una visione più futuristica come le Converse Chuck Taylor, le Zoom Flight SP, le Air Force One, le Hyperdunk e le Air Max 97. Introducendo la gomma trasparente applicata come scudo protettivo. Tutti i modelli vennero presentati nel 2017 al Nike Off Campus a New York dal 6 settembre all'8 e da Londra dal 14 al 17. Qualche settimana dopo invece sarebbero state rese pubbliche ed accessibili a tutti noi consumatori. Inutile dire che le scarpe hanno avuto un successo senza nessun precedente. Negli anni a seguire sono state introdotte nuove colorway e rivisitazioni di altre icone. Possiamo parlare delle due più famose come le Jordan 1 University Blue e le White. Passando poi all'omaggio a Michael Jordan avvenuto con le Jordan 5 e anche le Air Rubber Dunk. Nel gennaio del 2021 è stato fatto uscire un libro dove ci racconta foto dopo foto quello che sono stati gli step che hanno portato il designer alla creazione di ben più di 50 sneakers. Ovviamente partendo dalle iconiche The Ten. Assieme a questo rilascio sono state caricate alcune immagini di scarpe oscurate e con la scritta pending. Tra cui possiamo riconoscere la colorway canary yellow delle Jordan 1, sia le University Gold normali che le 2.0, quelle per Serena William e le Dunk Low futura. A fine 2021 però, data una forma rara di cancro, Virgil all'età di soli 41 anni purtroppo morì. Malattia che si portava dietro già da svariati anni. Qualche mese fa, dopo l'anniversario della morte di Virgil, Shannon Abloh, ovvero la sua attuale ex moglie, presentandosi con un paio di Jordan 4 Bread in collaborazione con Off-White e delle scarpe Unreleased, disse che ci sono decine di anni di progetti ancora in cantiere e riferendosi specialmente al Marche Off-White. E difatti l'anno scorso abbiamo avuto le Blazer Love ad aprile, le Air Force One Mid a giugno e a fine anno le Terraforma. Ci sarebbero ancora svariate cose da dire riguardo specialmente all'eredità che ha lasciato, però purtroppo non le ho volute inserire per non dilungarmi troppo con questo video. Lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo martedì con un prossimo video, buona giornata a tutti!